l'inizio è fondamentale. Allora cari telespettatori siamo tornati qui e quindi stiamo parlando anche di cose importanti nella sanità che sono il rapporto umano ma il dottor Galano non ha problemi perché di rapporto umano gli viene da sé, c'è e quindi riesce a portare il sorriso nei pazienti che magari possono avere difficoltà. Dai pazienti più giovani che abbiamo visto quindi l'ambliopia vediamo se ci sono anche un paio di immagini dopo della rigida da mettere in onda. Io voglio passare con le qua che ci può un attimo illustrare. Sì questo è un esempio su come funziona l'occhio perché naturalmente di ogni cosa per sapere come non funziona bisogna sapere prima come funziona. Vale per un motore come per qualsiasi altra cosa. Allora si paragona l'occhio a una macchina fotografica con l'obiettivo, la camera oscura e la pellicola. Nel nostro caso l'obiettivo è la parte anteriore, la cornea, il cristallino e il diaframma dato dall'iride, quella parte che noi vediamo colorata che ci piace tanto. La camera oscura è data dall'interno dell'occhio, immaginatevelo sempre la famosa pallina da ping pong e la retina è la pellicola che è adagiata nella parte posteriore e riceve le immagini messe a fuoco dalla parte anteriore. Tutto questo è naturalmente di una precisione non millimetrica ma millimillimetrica e si riflette sui principali difetti visivi se vediamo la prossima credo che ci siano che sono la miopia, l'astigmatismo, l'ipermetropia che sono tutti difetti di assemblaggio di queste varie parti della nostra macchina fotografica per cui le immagini vengono messe a fuoco o prima o dopo o sfocate proprio per la presenza di questi difetti la cui gran parte è correggibilissima con i nostri sistemi ottici che vanno dagli occhiali alle lenti a contatto o per finire in un'età in cui è stabile con i nuovi laser che correggono definitivamente il difetto. Ecco ma secondo lei questi nuovi laser, questi interventi successivi sono un vezzo così, una comodità oppure sono effettivamente cose utili, consigliabili, auspicabili da fare per persone che hanno problemi visivi? Allora diciamo che... Dove non c'è la patologia? Sì, diciamo che valgono tutte e due, cioè il confine tra medicina estetica e medicina funzionale è un po' labile nella chirurgia di questi difetti. talvolta no, talvolta è proprio un'esigenza, altre volte è un po' una forzatura richiesta dal paziente. Tuttavia abbiamo raggiunto un tal grado di precisione che anche noi siamo molto ben contenti di risolvere il problema degli occhiali a una persona che ha una vita attiva e che senza occhiali non vedrebbe nulla. Diciamo che è un po' molto una decisione personale e anche discutibile quella di togliersi gli occhiali ad ogni costo con qualsiasi difetto refrattivo. È una decisione importante e giusta quando il difetto refrattivo, cioè degli occhiali intercontatto, ci obbliga a una vita limitata. Vanno degli sportivi, di chi usa, chi vive all'aperto oppure di chi ha bisogno di una visione molto chiara in ambienti in cui è difficile portare questi ausili ottici. Quindi sempre es modus in rebus. Va sempre valutato. Su dieci persone che me la chiedono credo che la farò in tre, in due. Una volta spiegato tutto, detto tutto, la gente capisce e come sempre quando si informa una persona giudica in maniera corretta. Buongiorno, 41 anni e dieci anni fa ho perso quasi completamente la vista all'occhio destro in seguito ad un endoftalmite postchirurgica che ha fortemente danneggiato la retina. Ho sentito parlare di retina artificiale. È così efficace? Grazie Gisella. Non so cosa sia la patologia per cui... Gisella, io credo che lei sia in realtà sfortunata nella vita perché un endoftalmite chirurgica, postchirurgica, ormai è un'evenienza estremamente rara ed è tuttavia una delle maggiori complicanze che possono avvenire dopo un intervento. Non è prevedibile né prevenibile, cioè si può fare tutta una profilassi di questo, però ecco ormai siamo a un caso ogni 10.000 interventi, quindi veramente è stata scarroniata Gisella. Se poi il germe era piuttosto virulento, tanto d'averle danneggiato la retina, credo che le possibilità di recupero siano praticamente nulle al momento. Lei mi parla di retina artificiale, ma in realtà la retina artificiale è ancora un qualcosa più sui giornali che sulla nostra realtà. Quello non si riesce mai a distinguere quanto c'è di marketing su qualcosa. Lo so purtroppo, purtroppo è un nostro difetto perché appena facciamo un piccolo passettino vogliamo magnificarlo perché a noi sembra immenso. Il giornalista che lo fa anche perché la prima cosa che mi chiede è il titolo, dove è la novità, dove è il titolo, gli si dice magari di più di quello che è la realtà. La retina artificiale sono più sistemi per cercare di ricostituire questa retina, tra cui quello che viene impiegato più comunemente sta dando dei risultati diciamo molto parziali, anche perché obbliga il paziente, passando dalla visione unicamente dalla luce, dal buio alla percezione di qualche forma, a portarsi appresso un macchinario che pesa 4-5 kg, con un collegamento esterno piuttosto difficile da utilizzare. Quindi è stata un po' una delusione anche da parte nostra, anche se si continua in questo campo. Una grande aspettativa. Altri ricercatori stanno d'altra parte cercando una retina biologica, cioè non più una retina tipo computerino, ma una retina costituita dalle stesse cellule che costituisce quella normale. Il problema è che la retina non è una membrana messa lì, è una cellula che parte dall'occhio e con delle diramazioni dall'occhio arriva fino al cervello dietro nella zona occipitale. Quindi è una via lunghissima che ricostituire diventa veramente difficilissimo. Però io credo che ci arriveremo. È la frontiera che scavalcheremo, penso, fra, non prestissimo, ma fra qualche anno sì. Speriamo bene. Buongiorno, sono stata operata dal professor Galan più di sei anni fa e sto benissimo. Ringrazio ancora il reparto per l'eccellente qualità, Franca. Io ringrazio la signora Franca, ringrazio anche voi che probabilmente filtrate le domande. Mettete solo quelle buone. No, no, no. Perché credo che come la signora Franca sia entusiasta del Sant'Antonio e dell'oculistica, perché non avreste tante persone se le cose non andassero bene. La risposta è nella massa di lavoro che avete. Dicevo, dalla giovane età passiamo all'età invece più anziana e quindi voi avete tanti tanti che chiedono l'intervento di cataratta. Quando è importante intervenire con la cataratta? Quindi a che livello di degenerazione? Certo che lei dice adesso col tablet tutti vogliono leggere, eccetera, però forse c'è anche un'età, un certo tipo, un grado di... E con che tipo di strumentazione? Quindi che passi avanti ha fatto anche l'interventistica da questo punto di vista? Diciamo che negli ultimi vent'anni è cambiato tutto. Io sento ancora pazienti che mi dicono ma è matura la mia cataratta. E' un qualcosa che valeva nei tempi andati quando doveva essere matura nel senso di abbastanza densa e dura da poterla togliere con una pinza perché quella era la tecnica. Adesso invece noi entriamo nell'occhio, sempre immagini un po' cruente dopo pranzo magari, comunque noi entriamo con pinze e forbicine all'interno dell'occhio e estraiamo il cristallino perché il cristallino è una lente naturale che abbiamo dentro l'occhio, l'abbiamo visto prima nella spiegazione dell'anatomia, che mette a fuoco le immagini e che però purtroppo nell'età anziana tende a diventare opaco e quindi le immagini non passano più. Quindi bisogna togliere questo cristallino sostituendolo con una protesi che è un cristallino artificiale perfettamente trasparente che fa le veci del nostro cristallino naturale. Ma il cristallino artificiale quanto dura? Io credo che lo troveranno nelle nostre tombe fra 4-5 mila anni quindi non deve essere cambiato. Anche se purtroppo come in tutte le cose dell'industria molti cristallini sono stati messi nel mercato con delle caratteristiche che li hanno fatto a loro volta opacizzare. Però sono anche qui uno su un milione, quindi veramente molto poco. Cambio della qualità della vita della persona a questo punto di vista radicare. Sì, tanto che noi della vecchia generazione siamo un po' mortificati dal fatto che il paziente si aspetta di tutto e di più gli sembra di poter tornare alla visione che aveva a 20 anni invece in realtà qualche limite ce l'ha. La medicina è sempre molto presuntuosa e noi abbiamo la presunzione di sostituire un cristallino che la natura ci ha fatto in un'evoluzione di milioni di anni con un pezzetto di plastica perché la realtà è questa. In realtà l'intervento si porta dietro una sequela di non neanche complicazioni ma fastidi che vanno dalla lacrimazione, dal senso di corpo estraneo dalla maggiore sensibilità dall'obbligo di portare ancora occhiali o per lontano o per vicino e insomma, ecco, non sono tutte rose quelle che fioriscono in questo campo anche se, le dicevo per la mia generazione vedere come trattavamo i pazienti 30 anni fa rispetto ad adesso ci sembra di aver scalato l'Everest mi chiedeva gli strumenti che servono adesso noi abbiamo addirittura dei laser per far questo che però anche questi sono stati un po' una delusione bisogna diffidare sempre un po' delle novità come diceva il professor Cevese Infatti qua, per una catarata mi hanno consigliato la tecnica del femtosecondi mentre altri medici mi dicono che la vecchia tecnica va benissimo cosa mi consigliate? Esatto, la tecnica con laser è solo un'aggiunta per fare un piccolo passaggio iniziale nell'intervento classico di catarata anche questo è stato magnificato perché l'industria bene o male ha bisogno di sempre nuovi prodotti e sempre nuove però i risultati non sono però il risultato alla fine su milioni di ormai di operazioni fatte non cambia assolutamente rispetto al laser o al metodo chiamiamolo tradizionale che non è stato sostituito il laser entra solo come un procedimento di tre secondi in un intervento che ne dura 5-6 minuti perché dicono successivamente l'intervento di catarata potrebbe esserci scompensi alla vista di qualche genere l'astigmatismo successivo eccetera Certo, cioè possono rimanere dei difetti visivi corregibili con occhiali ma la cosa più importante da dire è che non è che operando la catarata si risolvono tutti i problemi dell'occhio l'occhio è molto spesso un occhio anziano che quindi si porta dietro altre patologie penso a un'amacolopatia penso a un glaucoma penso a una neurite ottica cioè tutti dei difetti che vanno preferibilmente ben catalogati prima esplorati se sono presenti nel paziente e fatta una prognosi del paziente sul recupero parziale o totale che può avere della vista patti chiari, amicizia lunga uomo avvisato, mezzo salvato chi più ne ha più ne metta Perfetto Allora andiamo in pubblicità dottore e dopo abbiamo appunto un paio di patologie come appunto l'hai accennato le maculopatie anche il glaucoma che sono interessanti almeno da far comprendere ai nostri telespettatori Magari ci riuscissi Sì, sì, esatto Allora pubblicità pochi secondi poi torniamo con voi